Allora a me fa sempre strano, vedere il suo nome associato al Mila mi fa stranissimo e ogni volta che ne devo parlare, perché non è la prima volta che viene associato al Mila, l'abbiamo già parlato in passato di questo calciatore, mi trovo sempre un po' in imbarazzo. Uno perché calcisticamente non è un calciatore che mi fa impazzire, però non si possono negare le sue qualità e quindi nessuno può dire no, questo è scarsissimo, non serve a niente, no, è uno che i gol li sa fare, anche se a me calcisticamente non fa impazzire come calciatore. Umanamente non ci siamo proprio, proprio 0-10 come voto, umanamente non mi piace per nulla, però è un grande nome, in questo momento è un nome importante e il tifoso del Mila in questo periodo storico in cui il mercato non decolla, in cui ci mancano i gol, possiamo permetterci di fare gli schizzinosi? Non lo so. Voglio vedere tantissimi commenti sotto questo video perché sono molto curioso di sapere l'idea dei tifosi milanisti, perché poi quando leggi gli articoli si parla di entusiasmo dei tifosi del Mila, secondo me se dovesse arrivare questo calciatore, dividerebbe proprio in due la piazza, io ne sono certo. Di chi stiamo parlando? La maglietta ragazzi non è un caso, anche se del mio idolo Leonel Messi, ma la nazionalità è la stessa, stiamo parlando di Mauro Icardi e quando si parla di Mauro Icardi ovviamente si parla anche di sua moglie. Vanda Nara, la sua procuratrice, quella che gli ha creato tutti i problemi poi all'Inter, io poi ovviamente chiedo soccorso magari se c'è qualche tifoso dell'Inter a scrivere magari sotto se dico qualcosa di sbagliato, perché non so proprio le vicende che sono successe, però da quello che mi ricordo era Vanda che metteva un po' in difficoltà con le sue interviste contro l'allenatore, contro i compagni e Mauro che non la smentiva e l'ha messo veramente in cattiva luce, gli tolsero la fascia di capitano e poi la cessione. Quindi credo che la grande rovina di Mauro Icardi all'Inter è stata l'amore, perché secondo me lui ci teneva davvero all'Inter e posso dire una cosa, tutte le interviste che ho visto dopo di Mauro Icardi ha sempre parlato bene dell'Inter, è sempre rimasto legato all'Inter. Se non sbaglio anche nell'ultima partita, la finale di Champions ha fatto il tifo per l'Inter, quindi io lo vedo uno molto legato all'Inter. Quindi potrebbe venire al Milan? Sì, perché tanto non gliene frega niente a questi calciatori, se hanno l'opportunità per venire vengono. Ora, da dove è nata questa notizia di Mauro Icardi? Uno, il Milan sta cercando un attaccante e si è fatto soffiare Turam dall'Inter, che sarebbe stato un buon acquisto a parametro zero, sei chiaro? Perché poi ho visto anche gente disperarsi per aver perso Turam, che vabbè, è un buon giocatore, vediamo cosa farà nell'Inter, è sempre una piccola scommessa, però se lo prendi a zero è un ottimo acquisto, io non sto dicendo che l'Inter ha sbagliato a prenderlo, anzi l'Inter ha fatto bene se a prenderlo, però manca a disperarsi come se avessimo perso Giorgio Ea, non è Giorgio Ea. Però, il Milan adesso cerca una punta, cerca una punta che comunque faccia almeno una ventina di gol e Giroud, onestamente, non è un grandissimo goliador, anche se ci ha tolto veramente da tantissime difficoltà nell'ultimo periodo, ma ci avrà un anno in più, gioca tantissimo ultimamente, quindi diciamo il suo fisico è stato messo abbastanza sotto stress, sicuramente Giroud sarà utilissimo la prossima stagione, ma non possiamo dargli le chiavi dell'attacco. Colombo, con tutto il bene che possiamo vedere a Colombo, può fare tranquillamente la terza punta, meglio di l'Asid, dice che manco l'abbiamo visto, Colombo è un giocatore che secondo me può rimanere in rosa, perché tanto se lo mandano in presso o lo mandano via non lo sostituiscono, quindi ormai ho il terrore, invece per me deve rimanere chiunque al Milan, perché altro c'è il terrore che poi non li sostituiscono, perché poi c'è gente che vi fa credere che è scontato che quando mandano via uno poi lo sostituiscono, io sto ancora aspettando il sostituto di Giroud, ma voglio all'aspettare. Quindi il Milan gli serve un attaccante per forza, e Mauro Icardi in questo momento ha il contratto in scadenza, cioè è finita la sua avventura col Galatasaray in Turchia, che ha fatto anche molto bene, ha segnato, ha vinto, ha fatto. Infatti quelli del Galatasaray vorrebbero rinnovarli di nuovo il contratto, vorrebbero averlo ancora con loro, non hanno le possibilità economiche in questo momento, però stanno cercando degli sponsor, delle cose, quindi diciamo che lui si è trovato bene in Turchia, quindi non è impossibile l'opzione Icardi ritorna al Galatasaray. Ma sicuramente non sarà il Paris Saint Germain, ha il contratto fino al 2024, il Paris Saint Germain per non fare una minusvalenza, anche se secondo me non gliene frega niente al Paris Saint Germain di fare una minusvalenza, l'importante è liberarsi di Icardi, dovrebbe vendere intorno ai 25 milioni di euro. Secondo me te lo vendono anche a 20, visto che comunque sta scadendo il contratto se trovano qualcuno che li paga l'ingaggio, e l'ingaggio è proprio il problema principale, perché Mauro Icardi prende 7 milioni di euro, e il Milan 7 milioni di euro a Mauro Icardi non glielo darà mai. Quindi per me questa è un'operazione quasi impossibile, ora si sono accesi tutti quanti i giornalisti, sui social e tutto quanto, perché Vandanara ha messo una storia su Instagram, in cui ha scritto Milan con la Clessidra, comunque è il tipo stiamo arrivando qualcosa del genere. Ora, sapete già che io non credo più a sta roba delle storie Instagram, ne abbiamo viste tantissime in passato, mi sembra la stessa Vandanara che una volta andò allo zoo e fotografò una zebra e il giorno dopo parlavano di Cardi alla Juve perché Vanda aveva fotografato una zebra, quindi signori da quel punto di vista non mi studisco più di nulla. Quindi, se dovessi dire razionalmente, in questo momento per me è un nome che viene accostato al Milan, ma è talmente difficile riuscire a prendere, non tanto per il prezzo del cartellino, perché ne vedo 20 milioni, per un bomber come Cardi non sono nulla, anzi, anche se ha 30 anni, e dovrebbe essere fuori dai parametri del Milan, perché se poi mi vai a comprare un trentenne, e io poi voglio capire perché tu non sei andato ad affondare su Milinkovitsavici, perché io ancora sto cercando di capire una spiegazione logica per cui il Milan, nella situazione in cui si trova, potrebbe risolvere miliardi di problemi, non ha neanche più problemi di soldi, visto che è ceduto Sandro Donali, non vai a prendere Milinkovitsavici. Mi sembra ancora una cosa folle, ma ci ritorneremo poi in futuro. Quindi, per me, questa è un'operazione che ha veramente pochissime possibilità. Uno per l'età del giocatore, due per il passato del giocatore che è molto attaccato all'Inter e non sarebbe, secondo me, ben visto da tutti quanti i tifosi del Milan, tre perché prende un ingaggio fuori dal comune e non mi sembra il tipo che si possa abbassare l'ingaggio, è più probabile che torna in Turchia con sponsor e cose varie per dargli quell'ingaggio, anche perché se non hai chiuso Turam, anche se io continuo a pensare che non sia una roba di soldi, molti fanno credere che Turam ha scelto l'Inter perché gli dà quel milioncino in più, non credo sia quello, credo che Turam abbia scelto il progetto Inter perché in questo momento il progetto Milan non lo conoscono manco quelli che stanno nel Milan stesso, quindi figuriamoci se lo può scegliere un giocatore che arriva dall'estero. Quindi per me non è una questione di 4 milioni, 5 milioni, sì è vero che c'è la situazione, ma però se dai 7 milioni a 1, poi i vari layout, Teo Hernandez, come la possono prendere? Teo Hernandez ha appena rinnovato il contratto, quindi sicuramente Teo Hernandez non si accontenterà di quei soldi, l'anno prossimo tornerà di nuovo a battere cassa, l'anno dopo tornerà di nuovo, non è che quello l'ingaggio di Teo Hernandez, quando tu metti un tetto salariale che ne so a 5 milioni di euro, tu puoi iniziare a salutare Teo Hernandez, puoi iniziare a salutare Leao, puoi iniziare a salutare tutti perché tanto quelli non rimangono per questo, Teo Hernandez adesso ha quell'ingaggio perché è passato da quanto? 1,5 che prendeva, adesso ne prende 4,5? Ok, sto dicendo cifre un po' così, non è che mi ricordo benissimo, però sono quelle le cifre, Leao ha accettato i 5 milioni, ma perché? Perché le hanno pagato la multa, altrimenti lui non avrebbe mai accettato quella cifra, c'erano squadre che gliene offrivano 8, 9, 10, 12, sono questi ormai i prezzi che girano, quindi tu non puoi avere un tetto salariale a 5 milioni di euro e definirti un club che non lotta per la salvezza, sei un club che lotta per la salvezza se hai quel tetto salariale, perché non puoi neanche partecipare alla Champions League, è impossibile, i giocatori come Leao, Teo Hernandez, a prescindere se tu vai a dare 5, 6 milioni a Turamma, tanto l'anno prossimo batteranno di nuovo cassa, adesso si accontentano di questo, ma l'anno dopo chiederanno di nuovo lamento e funziona così, stessa cosa sarebbe successo con Sandro Tonari, si ok si è abbassato lo stipendio quando era in un momento di difficoltà, ma quando poi inizia a giocare bene, diventi titolare, diventi protagonista della squadra, il tuo valore di cartellino aumenta e ovviamente deve aumentare anche l'ingaggio, quindi sicuramente Sandro Tonari sarebbe poi andato a battere cassa e dire oh guardate 2,5 o 3 che prende adesso, non sono più buoni, me ne dovete dare almeno 5 per adeguarmi con gli altri big della squadra, quindi sta roba qua degli stipendi ragazzi è una roba folle, se non la tolgono subito e non iniziano a capire che non puoi nel calcio moderno avere un tetto salariato a 5 milioni di euro, perderemo tutti i calciatori senza neanche pensarci, ma non credo sia quello in questo momento il problema per i cardi, credo ci siano tantissimi altri problemi, fatemi sapere innanzitutto che cosa, se vi piacerebbe l'idea di vedere i cardi con la maglia dell'Inter, io ripeto con la maglia del Mila, io mi trovo sempre in difficoltà quando si tratta di cardi e se possiamo andare a prendere un altro calciatore preferirei andare a prendere un altro, non nego le sue doti da bomber perché è uno che golli fa, però onestamente mi troverei un po' a disagio da avere i cardi nel Mila, non mi entusiasmerebbe così tanto, non mi darebbe quella carica, però ripeto in questo momento non possiamo neanche permetterci tanto di fare gli schizzinosi, quindi fatemi sapere voi cosa ne pensate e poi se è un'operazione secondo voi possibile, secondo me età, passato, ingaggio, cartellino, la vedo dura e non credo che la storia di Vandanara possa spostare le notizie di mercato come succede in questo momento, si vede che veramente c'è poco da dire se una storia di Vandanara può far esplodere il caso i cardi, fatemi sapere la vostra, sempre Forza Milan, bella!